Ho detto che la città mi ha detto Se la città mi ha detto che la città mi ha detto non devo mangiare allora puoi provare quindi oggi abbiamo deciso che faremo questi sushi di carta e vediamo come vengono è difficile è difficile? è difficile è difficile anche è difficile è difficile è difficile ragazzi è troppo di pittere quindi non lo facciamo ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi oggi video molto importante oggi è un video con il giapponese a caso in cui faremo il kamedon ragazzi non so più cosa inventarmi per questo canale aiutatemi con un mi piace questo è un video che mi avete richiesto in molti e sarebbe il kamedon e adesso chiederò al nostro giapponese che cosa vuol dire il kamedon come farlo e se non lo sapete imparerete anche voi qualcosa di nuovo let's start ciao 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 ciao